Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ETA Oggi siamo su Citadel Forged with Fire Un gioco che possedevo già da tantissimo tempo Ma che a inizio novembre è uscito in versione 1.0 E diciamo, l'avevo giocato pochissimo Avevo giocato forse 12 minuti nella primissima versione che mi era arrivata Era completamente inglese Scopro oggi che è completamente in italiano E tra l'altro un italiano fatto bene Ad esempio ho provato un altro gioco che viene dato in italiano Che farò anche quello prossimamente Atlas Però Atlas ha delle parti non in italiano Allora, il gioco si presta per essere giocato su dei server Ce ne sono veramente tantissimi Ma non lo faremo perché andremo a giocarlo nella mia partita privata Dove potete giocare in cooperativa con amici O da soli Per giocare da soli poi vi farete un'idea magari con la primissima partita In base a quanta esperienza, che moltiplicatore mette di danno Eccetera, eccetera Siamo in questo posto bellissimo in cui c'è questa montagna enorme Noi ci troviamo in questo luogo Qua potete vedere la mappa La mappa è veramente fatta bene Ma anche tutti i menu sono veramente Anche le descrizioni sono assolutamente ottime Graficamente non è lo stato dell'arte Però ce lo si può far piacere Allora, che cos'è Citadel? Immaginate Ark Immaginate Atlas Beh, Ark ambientazione diciamo un po' stile foreste, dinosauri Un po' così Atlas, ambientazione isole, mare, pirati Questa ambientazione è maghi Quello che mi ricordo di più è un Harry Potter Misto ad Ark, misto ad Atlas E un sacco di altri giochi di questo tipo Perché Vabbè, adesso qua possiamo Accogliere dei cristalli Perché se vedete online si può volare Si possono prendere, craftare le scope C'è gli sviluppatori che hanno indetto tipo un torneo E dove si gioca una sorta di Quidditch Quindi avete una mappa enorme Sono 36 km quadrati Questa è la mappa Potete andare a creare quello che volete A livello di edifici Potete mettere il trono Che poi gli edifici non deperibili Con la costruzione del trono Quindi farvi il vostro regno Il vostro castello La vostra Semplicemente la vostra casa Abbattere i nemici E come potete vedere dalla mappa Qua abbiamo un accampamento Continuo a mettere il mio simbolino qua Questo è un accampamento nemico Accampamento nemico Ce ne sono diverse Ci sono anche diverse grotte Che potremmo magari andare a vedere Grotte di Blackwood E potremmo andarci a dare un'occhiata Vi faccio vedere C'è la terza persona Quindi veramente io Si vede che non ho notato Sono praticamente un 8 La mia forma è questa Non ho neanche prestato attenzione L'ho creato al volo Poi ho iniziato a giocare E non ci ho più pensato L'inventario Con tutti i nostri oggetti Appunto diviso tra tutto Oppure solo le armi Le armature I cimeli Consumabili Reagenti Abbiamo qui invece Il grimorio Dove possiamo Questa è una cosa Che io non ho ancora capito Esattamente Perché Qua possiamo Shiftare Tra la bacchetta magica Che abbiamo E L'ascia Sull'ascia Io ho messo Un incantesimo Di esplosione arcana E sulla bacchetta Ho messo Un missile arcano Che fa un top di danno E fretta Che invece Aumenta la nostra Percentuale Di velocità Insomma Cliccando un oggetto Quando l'avremmo creato Potremmo andare a Impostargli Un Un incantesimo Di tipo arcano Di tipo proiettile Di tipo creazione Su di sé E di tipo effetto Se invece prendiamo Un altro oggetto In questo caso Avremo Un incantesimo arcano Di tipo esplosione Appunto Un'area ad effetto Su di sé O un altro effetto Insomma Possiamo scegliere La funzionalità Ad area Proiettile Le scuole a sinistra Sì infatti Cambiano In base All'oggetto Selezionato Queste due qui Cambiano Queste altre due no Non ho ancora Ben capito In base a Cioè in Che cosa andiamo a spendere Per farlo Perché sono ancora In pieno tutorial Però possiamo Aggiungere le essenze Poi per andare a Personalizzare Esempio Io voglio mettere Non lo so Proviamo Metto l'essenza Della luce E mi farebbe Incantesimi di luce Io voglio Di notte Non ci vedo una mazza Voglio provare a vedere Se posso fare Un effetto Su di me Me lo fai fare qui Ok Abbiamo creato Un incantesimo Di espiazione Converti lentamente Il tuo umano In salute Beh no Vabbè Comunque andiamo avanti Qua abbiamo la creazione Dove possiamo fare Reagenti Dove possiamo fare Consumabili Vedete che tutti questi E rossi chiedono Un Un tavolo da lavoro In questo caso Un flucolare Possiamo fare armi Possiamo fare Cappelli Maglie Pantaloni Stivali 10 mili Qua invece È la conoscenza Salendo di livello Possiamo andare A sbloccare Nuovi oggetti Praticamente Qua dove ho sbloccato L'ascia Posso andare A farmi La possibilità Di craftare Il bastone Della foresta Io spendo Il punto E lo sblocco Poi livello 10 Potrò andare A spendere altri punti E sbloccare Al momento Sono livello 5 Si livella Anche abbastanza Rapidamente Essendo da solo Non ho messo Eccessivi moltiplicatori Sull'esperienza L'ho messo Più lo più Sul danno Ho detto Che magari Qualche boss Fact Un po' difficile Vabbè Queste tre Sono qui Oppure abbiamo Anche questa Che è la Creazione della conoscenza C'è tutto quello Che è potenziamento La salute Le ricette Di cucina E qua tutto quello Che è edificio Guardate quante In legna In pietra In marmo In decorato Torce Il bandiere La decorazione La difesa L'attacco social Piedistallo Insomma Per le sfere Di broomstick league Quindi per fare Le partite Insomma Le porte Della partita Diciamo Su scope E qua sono vari poteri Possiamo fare il trono Possiamo fare il calderone Nel romante Creare potenti pozioni Qua abbiamo il focolare Qua posso sbloccare La fucina Cosa che vado A fare immediatamente Andiamo avanti Qua abbiamo il social Dove possiamo vedere gli amici E i giocatori online Nel server E creare un casato E qua invece abbiamo Una delle parti più interessanti Le creature domate Non so ancora esattamente Quali sono le creature domabili Ma Lo scoprirò Allora il bello Ed è tanto tempo Che non avevo una sensazione Del genere Giocando a un gioco È quello di Esplorarmi E scoprirmi Un gioco Passo passo Godendomelo In italiano Perché tante volte Vediamo dei survival Però non si capisce In inglese Non si sa Fino a che punto Passa un po' La voglia Qua L'ambientazione a me Fa impazzire Mi piace tanto Che cosa Ad offrire Ok mi spoilerò Tutto sui gameplay Ma non lo gioco Appartenente Quasi nessuno In Italia Oppure me lo gioco Insomma Ho deciso di giocarmelo Intanto vedete Che col tasto B Sotto in basso a destra Ci viene ricordato Che con la B Possiamo andare a creare I primi pezzi Della nostra casa Qua possiamo andare a fare Magico Sarebbe il focolare Quindi andare a cucinare E poi col tasto O È quel crafting Che vi dicevo prima Ogni tanto compare anche Il tasto K Quando saliamo di livello Perché possiamo Come succedeva in Oblivion E Skyrim Possiamo potenziare Mi pare In entrambi Possiamo potenziare Un attributo La vita Il mana Il danno O il trasporto Di materiali Intanto io sto Vagando da questa parte Cercando di andare Alle grotte Quando moriamo Ripartiamo Da uno dei tre Luoghi iniziali Di partenza Che sono Uno Due E tre I luoghi iniziali Sono bene o male Gli stessi La cosa interessante È che Ho sbloccato Prima Una missione giornaliera Ci ho trovato Quel tizio Che avevo lì Vicino In una Una casetta Diciamo Infossata nella collina Ci ho parlato Oltre alla missione Iniziale Che mi ha dato L'equipaggiamento base Che non è praticamente nulla Una berretta Del cibo E la Laccetta qui Ho trovato lui E missione giornaliera Uccide i lupi E ti do Qualcosa Insomma E quindi Potrei anche pensare Di farla Devo uccidere dei lupi I lupi sono Assolutamente qualcosa Di prohibitivo Fino al momento in cui Non avete la pazienza Di seguire il tutorial Quindi Perderci 15-20 minuti E scoprire Questo incantesimo Che praticamente Ho già montato Sull'accetta L'accetta Col tasto destro Fortunatamente Non ho messo incantesimi Col destro Invece faccio Col destro Non faccio niente Fortunatamente E col sinistro Vado a fare un mega danno Lui ci fa La pelle Però vedete L'ho ucciso E ne ho ucciso uno Un metalupo Posso andare a lutare Saccheggiare tutto Sì Poi la cosa strana È che all'interno dei lupi Trovi carne di alce Però Vabbè È un dettaglio Su cui si può passare sopra E una volta che ho completato tutto Sulla mappa E soprattutto Sulla bussola in alto Mi verrà indicato Un punto di domanda Che raggiungendolo Mi farà arrivare A A quello che mi ha dato la quest Quindi è molto semplice Da questo punto di vista Altra cosa Bisogna raccogliere anche Le essenze Le essenze Ci consentono appunto Di fare gli incantesimi E io ho scoperto Che dove ci sono Questi teschi qui Sono delle pozze Piene di veleno E intorno a queste pozze Abbastanza inaccessibili Ci sono dei globi verdi Prendendoli Colpendoli più volte Si va a Ottenere Ok ho ucciso il coniglio Ho sempre sognato Di fare una cosa del genere Si ottiene il blocco Il globo della vita Della natura Scusate Globo naturale Poi si raccolgono questi Ci danno sempre esperienza Poi ho il dubbio A cosa servono A preguardo Sono una risorsa Preziosa Ignus Puoi raccogliere manualmente Sì Poi mi verrà richiesto Qualche oggetto di crafting Raccolgo le orchidee Cerco di capire Io vorrei andare là Io metto il puntino E vediamo se riesco ad arrivare Ci mancano 300 metri Magari Quelle grotte Saranno alla mia tomba Là c'è un altro edificio È un po' Ecco Un altro gioco Che dovevo citare Conan Exiles Perché lo ricorda molto Solo che A me non fa Né impazzire L'ambientazione Dinosauri A me non fa Impazzire L'ambientazione Conan Iboria Come si chiama E Sono dei gusti difficili Lo so Non mi fa impazzire Tutto quello che è Magari solo Medioevo Simulazione Un po' come Quell'altro Quell'altra serie di giochi Molto realistici Di stile medievale Non mi dispiace Questa cosa Questa cosa puntata Ci sono un sacco Di nemici Si possono combattere Gli accampamenti Di nemici Poi ovviamente È la Come si dice La morte sua Al giocare all'online Con altra gente Cioè O i server Però i server Hanno il pvp E si sa Che viene fuori Sempre un gran Casino Oppure Prendo la bacchetta Eh no Non ce l'ho più La rapidità Quindi Non ce la faccio Niente Devo fare il giro Sta scendendo anche la notte Quindi tra poco Uh lì c'è un accampamento Che dovrebbe essere L'accampamento dei nemici Possiamo provare a farcelo Volendo Eh qua mi sembra un po' Difficoltoso andare su Ma Sembra che No Poi sapete che io faccio Eh basta fare il giro di qua Allora Voglio provare a vedere Queste cave Le arne maledette Prima di affrontare i nemici Perché poi Cos'è quello? No È un Un cinghiale Un cinghiale Un alce Sì stiamo andando giusto Giusti No Speravo di fare un po' di luce Ma La luce io non l'ho trovata Quindi Vedete che poi colpendo qui Possiamo ottenere Pietra Aia Aha Faceva il furbo lei Mamma mia Quanto danno fa questo Eh Poi nel momento in cui Nel momento in cui Smettiamo di combattere La nostra vita Ricomincia a salire Mi è morto No perché È sembrato di vedere Un'ombra Eccolo lì Me lo dava Livello 10 Quindi molto più forte di me Uva Ossin Ok Eh che cacchio No no Ok dai Stiamo recuperando vita Voglio vedere Ok no Dovremmo esserci Eh no Non ho la vita Al male Che cacchio È sta roba Ho capito No Sono Delle grotte enormi qua No non me la sento Uh No Cinghialozzo Ok Fortuna che Ho questo Questa Quest'ascia Che fa un sacco di danno Voglio andare a sto punto qua Perché io non sono mai contento Voglio andare a L'accampamento dei nemici A sto punto Prendiamo funghi Che sono utili Voglio saccheggiare L'accampamento dei nemici E arrivandoci Spero di Salire un po' Di recuperare un po' Di vita Ha tutto un non so che di magico La musica è veramente molto bella E io non so Non Non Ha delle recensioni In crescita al gioco È per lo più positivo Al momento Ma In genere Resta su una valutazione Nella media E Vorrei tanto capire Perché Allora intanto Io vorrei fare una cosa Vorrei mangiare Cinghiale salato Consuma oggetto Molto bene Mi mangio anche L'insalata di bacche Così Ok Siamo già piena vita 100 metri E avremo il risponso Se siamo abbastanza forti Per quel gruppo Di nemici Ovviamente Non abbiamo ancora Costruito niente Se attacchiamo Con La Laccetta Un albero Si ottengono Pezzi di legno Quindi Possiamo Mamma mia quanti E mi chiedo anche Di che livello siano Quindi adesso io mi avvicino Non è bellissimo Neanche il modo di abbassarsi Ma Pazienza Vediamo di che livello Sono sti qua Sono solo tre Sono a livello 8 Hanno 600 punti vita E stanno attaccando Quello Che è il momento giusto Per attaccare Sì Peccato che Sono veramente Scarsissimo Io nel Un po' meno Un po' di più Sono orchi Sì Mi fa la pelle Oh porcaccia La miseria Scusate Scusate È una volta Basta E poi si va A recuperare La nostra roba Ovviamente Gli oggetti di base Restano In questo caso L'ho fatta un po' fuori Dal vaso Perché Ovviamente Volevo fare La mia classica figura Di Murda Con voi Ma Non posso Andarla A affrontare 10 orchi Livello 7 8 Quando io sono Livello 5 Dovrei Forse Concentrarmi A fare un po' Di esperienza E fare questa missione Cosa che faccio Immediatamente Adesso Perché Starà Arrivando Il giorno E Quella vedete Che è una zona Protetta Fino a Quando non usciamo Dalla bolla Non possiamo colpire Nessuno All'esterno Nessuno Può farci Del male Quelli sono I globi verdi Che vi dicevo Dell'essenza Della natura Devo andare Devo andare Devo andare Devo andare Dritto su E recuperare La mia roba A parte che Vedete Zaino Completamente Vuoto Mi è rimasto Quello che ho In mano Non che abbia perso Granché Perché Me lo posso Rifare Però Fare attenzione Qua perché Queste sono Pozze di veleno E andandoci dentro Vado a subire Un danno A tempo Io mi sbaglio Sempre Premo il tasto Destro per colpire Ok Intanto ho fatto Livello 6 Quindi Fatto livello 6 Io a questo punto Premo K E posso potenziare Vedete come vi dicevo Io potenzio la vita In questo caso Perché L'ho preso altri punti Da spendere Niente Andiamo avanti Si livella Come vi dicevo Piuttosto rapidamente Quindi Pian piano Oh che cacchio No Ma Ma quanti siete C'è anche il cinghiale Multicolor Eh ragazzi Non è che posso Cioè Ho già Luttato il mondo No Voglio capire Come cacchio Faccio Ok Lo mettiamo qui No Non lo voglio lì Lo voglio qui Il segno Eh Sono 200 metri Anche se sembra Molto di più Cioè in sintesi La mappa Dovrebbe essere 6 km Per 6 Solo che L'accampamento Io non è che posso Arrivarci sopra Adesso Ok Questo è un altro È un'altra Pozza Di veleno E Adesso Vabbè Il giorno arriverà Nuovamente Finirà la notte Ma è questo Ma Vabbè Temo che non andremo più a prenderla la nostra roba Ma Chi se ne frega Inizieremo a fare E Inizieremo a fare Casa Altrove Questa è la zona sicura Appunto come vi dicevo E Qui dentro Potete scendere in queste pozze Che vi Ripristinano la vita Ripristinano il mana Ma non servono assolutamente a niente E In futuro poi si potrà volare Come vi dicevo Ci sono le scope E E Le scope poi consumeranno mana Quindi non credo sia possibile volare all'infinito Ma Il mana va ricaricato Potete vedere diversi screen A me Ispira molto come gioco Ovviamente adesso sto giocando un po' più allo sbaraglio Per tentare Magari il colpo secco E di Portarvi magari Un Eh È sparito l'altro corpo Però Eh sì Di fare bella figura E di trovare un bel loot Ma Probabilmente Mi sto sbagliando Perché sono veramente Scarso Allora Intanto io voglio andare a vedere Se riesco a Piazzare Magari le prime fondamenta Per la casa Così che Brevemente Vedete legna Potete andare A piazzare Le case E Dipende un po' come le impostate All'inizio della partita Perché ci sono le impostazioni Che comunque sono quelle Che vengono usate Anche nei server Quindi Ci sono Alcune zone Non adibite Alla costruzione Oppure potete Mettere Tutto Senza Limiti Iniziare Iniziare Senza il tutorial Invece È praticamente Impossibile Perché Se vi mettete A colpire Gli alberi Con le Mani Vi fate male Prendo tutto È tutta esperienza In basso Vedete la barra Dell'esperienza Poi col tasto R Del tasto T C'è la possibilità Di prendere le pozioni Di bere le pozioni Intanto sto Morendo Dove ero prima Ma io non voglio Uccidere il folletto Cioè preferirei Evitare il folletto Voglio provare A mettere giù Una casa Solo che la casa Io la vorrei mettere In un posto Un po' Bellino Il problema È che ho E Eccomi lì Eccoli il corpo Di prima Interagisci Saccheggia tutto E questo Abbiamo preso Il primo corpo Adesso il folletto Dovrebbe essere Qua in giro Ma non mi interessa Perché non voglio andare Eccolo lì Infatti Via Via Speriamo che Non decida Di inseguirmi No Eccolo là Ma mi piacerebbe capire Ma è livello 7 è fattibile Vabbè Probabilmente fa tanto danno Calcolando che lui Ha 700 di vita E noi ne abbiamo 140 E andando a consultare Il menu Noi facciamo Ok Facciamo 170 danni Dovremmo dargli Almeno 6 colpi Se non 5 5 e 5 e 5 e 6 colpi Ma se lui con un danno Ci fa 50 Siamo già praticamente morti Allora Vediamo un po' Questa mi sembra Una bella zona Carina Per poter Magari Metter giù Qualcosa Lo so No È leggerissimamente scosceso Però vorrei Uccidere un cinghiale Per continuare la mia Missione Essenza di luce Ok Vediamo un attimo Oddio forse ce la facciamo Recuperare la roba Però Poi mi piacerebbe Darvi più informazioni Su questo gioco Ma in realtà Devo ancora scoprirlo Io vi ho fatto il video Preso dall'entusiasmo Che ho Per questo gioco Perché L'ho iniziato stamattina E siamo in realtà Dopomeriggio Quindi Gli ho speso un po' di tempo E ho detto Cavoli Il gioco È bello Se vi piace il fantasy Se vi piacciono le magie E soprattutto Non avrei fatto il video Se non fosse stato in italiano Un'altra cosa Che veramente Graficamente Il gioco è Accettabile Mi piacciono tanto I menu Mi piacciono tanto Le descrizioni degli oggetti È fatto veramente bene Allora 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 Vediamo un po' Qual era il tastino Per fare Gli edifici No Non ricordo più Qual era Allora Abbiamo le caricature Abbiamo la mappa Quale cavolo era Per Vabbè No È che mi sa Che ho perso Degli oggetti Per craftare Forse No E Mi sa di sì Perché Perché Mi sa che non posso più craftare Adesso Niente Mi sarebbe piaciuto Iniziare la casa Ora Ma Non si può fare No Ok No Eccolo qua Eccolo qua Allora Facciamo Il fondamento Perché non si può fare qui Materiali sufficienti Ah ok Ci serve un botto di legna Non solo un po' Un botto di legna Vabbè La possiamo fare lì No La La c'è la mia roba Prima Sono caduto giù Dalla montagna Vediamo un attimo Perché Di là C'è l'accampamento Io sono caduto giù E il mio corpo Era più o meno In sta zona Quella cosa lì Che fuma Forse Sì Eccolo lì Se ho Se riesco a prendere Tutta la legna Di prima Riesco a fare Qua La mia casetta Pietra Non era neanche Tanta roba No infatti Vabbè Col tasto B Mettiamo Le fondamenta No 39 su 25 Più 50 Supporta i costi In aumento Materiali sufficienti Niente No Non si può Devo andare a tagliare Legna Mi spiace C'è legna lì Proprio sotto L'accampamento Di quei tizi Però Non mi fa Impazzire la notte Perché è un po' Troppo azzurrina Però Credo che una volta Che poi si possa volare Diventi bellissimo Da vedere Allora Non vi ho fatto vedere Il crafting Del fuocarello Ma in sintesi Col fuoco Potete accedere A tutte quelle che sono Le ricette Che avete visto Che avete visto prima Cioè in sintesi Tutto quello che è Questo Posso fare Posso fare L'installata I bacche Subito Vedete che me lo crafta Perché è una cosa Che non chiede Il fuoco Allora L'albero poi Scompare Quando avete Finito Allora Intanto Sì Se devo metterci Sei ore Per fare Questa qua Cos'è La rotazione Vabbè Allora Ok Ah sì Bisogna fare Molta attenzione Perché Ok Uno E ciao Ci serve Sì No Qua Eh ragazzi Bisogna lavorare Bisogna Ottenere Un sacco Di materiali E poi Costruire La casa Ci vuole Una vita Si può andare Credo anche A modificare La quantità Di oggetti Che si ottengono Però ecco Forse il limite È Se giocate da soli I nemici Vabbè Lì si rendono Più potenti Meno potenti Scusate I danni Dei Nemici E più potenti I danni Dei giocatori E le risorse Bisogna raccoglierle Come in ogni gioco Bisogna raccoglierle Ovviamente Le cose più grosse Costeranno Molti più materiali L'ideale In questo gioco Sarebbe Secondo il mio punto di vista Giocare Con amici Cioè Se siete degli Iper sociali E avete Una gilda Avete un gruppo Con cui fate Magari anche Warcraft O altri giochi Del genere E proponete Questo titolo Può andare bene Se Ah si può fare Anche l'angolino Che è figo Eh Se no Potete giocarlo Con amici Andare a giocare Alla cieca Dovete essere Proprio dei Dei Social al massimo Perché a me Non verrebbe mai in mente Di entrare qua Con altra gente Non italiana E cercare di Non lo so Allora Eh la linea richiesta È veramente tanta Però credo Credo Che qua ci sia Un aumento Di qualcosa E devo ancora Capire perché Perché non me lo fa fare Cioè Non mi fa Bisogna mettere Il trono Forse Eh si Cristallo Runico Le abbiamo La pietra Voglio provare A fare la pietra Adesso Perché Ho il dubbio Che il trono Mi faccia aumentare I costi Dei materiali Allora Recuperiamo Un po' Di pietra Intanto Mi avevo promesso Di fare un video Corto Perché ultimamente I video Mi stanno venendo Lunghissime Poi non se riguarda Nessuno Però Vabbè Lascia Io devo ancora capire Se si rompe o meno Perché Ma sembrerebbe Di sì Perché Vedete 31 su 206 E mi ricordo che stamattina Era molto Più Più Alta Quindi mi sa che a breve Saremo in braghe Di telissima Comunque B Magico Magico Il trono Lo piazziamo Qui Posso ruotarlo In qualche modo No Scusi Allora No Quella Ma non è il trono Quello È la fucina Sono un pirla È vero La fucina Dov'è che Il trono Non mi ricordo Se l'ho sbloccato O no No è vero La fucina Eh Sarà utile anche quello Allora Legna No dai Andiamo a vedere Se si può fare il trono Stavo per fare una gaff Pazzesca Allora Io di solito Non sono nuovo A ste cose Allora Vediamo un po' Il La fucina Il banco da lavoro Che sblocchiamo subito Il trono Ok Adesso Trono Perché poi si può impostare anche quanto ci mettono poi a decadere le cose che non hanno il trono E anche il trono decade a sua volta E io quella cosa mi pare di averla disattivata Comunque Il trono è qua Il trono senza manutenzione decadrà in 16 giorni Anche il trono è caduto La sua struttura diventerà abbandonata E andrà lentamente in rovina Ok Questo è il mio trono Maledetti Bastardi Posso metterla qui? No? Si può? Metto qui Ok Questo è il mio trono Che fluttua Tra l'altro Potremmo piazzarlo anche meglio Comunque vabbè Questo qua è il trono Quindi Il trono di Indy Ah no Fluttua Non è che fluttua È che Proprio galleggia Sull'aria Ah figo Allora Adesso io ho messo il trono Voglio capire se adesso mi si abbassa il costo No No Non mi si abbassa i costi Allora Vediamo se riesco a fare Non so perché me lo mette nel magico Comunque Il tavolo da lavoro O la fucina Ma voglio fare La fucina La posso fare subito Tavolo da Banco da lavoro Banco da lavoro Prendo ancora un po' di legna E proviamo a fare anche il banco da lavoro Voglio vedere com'è Com'è Però ecco Quello che vi dicevo prima Il senso di quello che vi dicevo prima È questo Io adesso non so le cose Ma sono anche stimolato a esplorarle Cercare di capire Perché prima mi trovo in un'ambientazione Che mi piace da morire Con quella mega statua scolpita sulla montagna E perché il gioco è ampiamente comprensibile in italiano Se poi ho amici Meglio ancora Sì Avessi amici Con cui giocarci Allora Tac 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 Ok Tavolo da lavoro Almeno questo non flutua Non fa venire il mal di mare Banco da lavoro E vedete che possiamo fare questo Consumabili Possiamo fare semi di eleboro nero Farina Aspetta Assieme nel merendo Va bene Bello È interessante Interessante Vediamo Voglio vedere se riesco a fare la forgia Forge Mi servono sei cristalli unici E capita proprio a fagiolo Perché a breve Me ne mancano sei Vien detto Cristallo è unico È unico È unico È unico È unico È unico Eccolo lì È successo quello che non volevo succedesse Comunque va bene Forse ci salviamo Se riusciamo a fare Il tavolo Da Della forgia No Tac Tac No Tac Forge Oh Quindi c'è il pelo Abbiamo preso Eh Ma Non me la metti qui No Si può No Non si può No Dovrei capire bene Come fare a ruotarle Scusami ma Se io No Vabbè Eh Niente Il problema Adesso è Se io volessi Creare un altro Oggetto Eh Un oggetto Di questo tipo Ah ok Lasciala Faccio Normalmente Ok Ok Niente Eh Volessi Qualora creare Un metallo E non Lascia di pietra Dovrò usare Sì Infatti Adesso qua ci metterò Un po' Comunque Eh Questa è la città Del Forged Forged Of Fire Pronunciato giusto Come vedete Grazie a tiro Mi scende la vita Un gioco Molto molto intrigante Non costa poco Perché è scontato 30 euro Poi l'ho visto Sui 30 34 euro Non so Poi sui siti Alternativi Se Si trova qualcosa Meno Ovviamente Meglio sempre Sviluppare Cioè Supportare Gli sviluppatori Anche se Che non era Un checkpoint Valido Quello Infatti Ripartirò Da qui E sono Abbastanza Messo male Ed emotivato Perché L'orso è venuto Mi ha ucciso E io Non ho più Lascia Anzi A dire la verità Lascia Non l'avevo Cariata Quindi Dovrò raccogliere Stato facendo Delle cose E Intanto qua Vedete che mi dice Di avventurarmi Nei boschi E fare missioni In giro Dovrò recuperare Del legname Delle pietre E farmi Nuovamente La lascia E poi magari Andare a potenziarla Con qualche risorsa Comunque Io fortunatamente Ho Il mio trono Cioè Il trono Me lo segna Ma non ci posso Viaggiare Vabbè Niente Ci viaggerò La dopo Cercherò Di fare Non so Se un letto Qualcosa Per fare Almeno Un checkpoint Della morte Niente Attendo il vostro parere Se conoscete già il gioco Se potete darmi Qualche suggerimento Dite mi se il gioco Vi è piaciuto Non vi è piaciuto Soprattutto Se c'è qualcuno Tra voi Che è un giocatore Navigato Di questo titolo Faccio sapere Se è veramente Proibitivo Giocarci da soli O È fattibile E detto questo Vi lascio Un abbraccio a tutti E alla prossima E ciao ciao Un abbraccio a tutti Grazie a tutti